Soprattutto all'orchestra, alla Camera del Cilento e al Vallo di Piano, composta da vari componenti del Cilento e locali. Dunque, è la serata appunto dedicata al concerto di Natale. La serata propone un itinerario musicale geografico, storico e artistico attraverso le musiche del Natale, intese secondo l'accezione critico-letteraria quali spazi di riflessione critica e come ragioni interiori in cui il mistero religioso, ovvero il Natale, rivive grazie all'intermediazione armonica, ritmica e timbrica di alcune delle più suggestive pagine della cultura musicale. Grazie. 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 Grazie.